Una grande giornata di sport per il ciclismo giovanile. Sì, domenica siamo alla seconda edizione di questo Memorial, intitolata a Michele Santini e Stefano Ferri, due persone ben conosciute e anche ben volute. Abbiamo organizzato come centinarolese questa iniziativa che è la seconda edizione. La prima edizione si è svolta l'anno scorso e quest'anno abbiamo addirittura raddoppiato i partecipanti. Sarà perché magari porta anche fortuna, essendo noi la città della fortuna, il vincitore dell'anno scorso, Mattia Petrucci, si è laureato campione italiano proprio una settimana fa e quindi torna e ci porta questo bel regalo per questa seconda edizione. Quale sarà il percorso? Il percorso si snoda nella zona di Selva, partendo da Centinarola, la Selva, per poi dopo attraversare l'abitato di Fenile, via della Fornace, via Fanella, via dei Condotti per poi tornare su via Brigata Messina. Questo circuito verrà percorso per otto volte, dopodiché ci sarà l'ascesa a Montegiove per la parte finale e l'arrivo, vediamo se sarà involato o meno, nell'abitato di Centinarola. E con il circuito sarà chiuso al traffico? Il circuito, come ordinanza del Comune di Fano, sarà limitato al traffico solo in percorrenza nel senso di marcia e ci avvigerà il divieto assoluto, per ovviamente questioni di sicurezza, di divieto di sosta per le macchine lungo il percorso. Da che ora a che ora? Dalle ore 12 alle ore 18 fino alla conclusione della manifestazione. Allora aspettiamo tutti gli sportivi appassionati di ciclismo e non, domenica alle 15.30 per la partenza per il secondo Memorial, Michele Stefano, con oltre 120 atleti da mezzo Italia e il campione italiano Mattia Petrucci, che verrà sicuramente ad animare la gara per fare una bellissima giornata di sport e di amicizia. A presto! A presto! Grazie.